Cari amici di Fano TV, la più cordiale buonasera e bentrovati. Questo è il primo di tre approfondimenti in studio che ogni anno la nostra emittente dedica a Passaggi Festival, la rassegna culturale dedicata alla saggistica. Dal 21 al 25 giugno partirà l'undicesima edizione, quindi cinque giornate ricche di appuntamenti, ricche di ospiti tra Pincio e Mare. Davvero un appuntamento interessante fatto di incontri tra lettori e autori. Ma diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, buonasera a Ludovica Zuccarini, ben trovata, e buonasera a Giovanni Di Bari. Buonasera. Allora, si riparte con questa rassegna strepitosa il tema di quest'anno, la vertigine. Sì, chiedi alla vertigine, appunto il tema che farà da filo rosso di tutte le presentazioni che ci saranno Passaggi Festival, tantissimi libri, tantissimi argomenti, tantissimi spunti di riflessione, toccheranno l'attualità, i temi della saggistica vera e propria. Torniamo quindi dal 21 al 25 giugno in Piazza 20 Settembre, in Zona Mare, al Pincio, al Chiostro delle Menettine, alla San Francesco, quindi tanti eventi. Allora, partiamo dal Pincio, che è questo salotto letterario e introduciamo quindi anche la presenza di Giovanni. Sì, al Pincio abbiamo i temi, diciamo, legati alla musica, all'influencer, ai temi di attualità che sono, diciamo, cari alla generazione Z e abbiamo quindi appunto le graphic novel, che quest'anno veramente si sposta in un altro luogo della città, ma che comunque fanno parte sempre della rassegna Fuori Passaggi. E allora ci spostiamo alla chiesa di San Francesco. Siamo anche molto contenti di questa nuova location, perché Fuori Passaggi si apre ancora di più al centro storico. Prima era il Pincio, adesso è il Pincio e la San Francesco. Alla San Francesco ci saranno i fumetti, le graphic novel. Dal 21 al 24, quindi da mercoledì a sabato, avremo tanti ospiti, tanti fumettisti e tante fumettiste che presenteranno i loro lavori. Apriamo mercoledì 21 con Paolo Baciglieri e con il progetto di Materia de Genere, che è un progetto che è al terzo volume e raggruppa i lavori di tante fumettiste femmine. E il terzo lavoro di Materia de Genere, Materia de Genere 3, è appunto un lavoro che ha come mentore Paolo Baciglieri, quindi è una serata dedicata un po' a Paolo e alle sue amiche fumettiste. Il giovedì passiamo ad un ospite che rincorriamo da un po' di anni, è un nostro concittadino, Samuele Canestrari, un autore molto interessante che ci verrà a parlare e verrà presentato da un'associazione internazionale di illustratori che ha sede a Cagli, ci verrà a parlare della sua ultima opera, Urlare alla morte con la testa dentro il cuscino, quindi già il titolo è significativo. Alma Animatori, i fondatori di Alma Animatori presenteranno quest'opera e presenteranno il progetto di Alma. Alle 22, cioè in seconda battuta, abbiamo il nostro ospite internazionale di quest'anno. Abbiamo avuto la fortuna di intercettare Nora Krug, che è una disegnatrice molto importante, che ha pubblicato anche per Einaudi, che ci viene a trovare e ci racconta di questo suo ultimo lavoro, L'era dei tiranni, di cui ha curato la parte illustrata. Venerdì continuiamo con un autore locale in prima serata, come si può dire, Francesco Fioretti è lo sceneggiatore di un fumetto su Alessandro Manzoni, che verrà presentato da Nicolas Ciufferri, un performer che Fano ha adottato in questi ultimi anni, perché vive a Fano. Dopo Fioretti ci sarà un'altra ospite che ha fatto la storia del fumetto in Italia, Silvia Ziche. Quindi abbiamo avuto anche l'onore e la fortuna di poter portare a Fano Silvia Ziche. Si chiude sabato 24 con tre appuntamenti. Il primo appuntamento è un appuntamento con un autore che vive in Italia, ma che ci parlerà della sua origine iraniana dell'Iran, Majid Bita, con il suo ultimo lavoro di Canicola Editore. Poi ci sarà un momento dedicato a Michael e Mirko, la presentazione della sua ultima opera di fumetto, che però fa parte di una collana più ampia, Gli Scarabocchi di Michael e Mirko. E chiudiamo con un doppio appuntamento. Passaggi Fra le nuvole, che è la rassegna di fumetto di Passaggi Festival, è alla seconda edizione di un concorso, un concorso che si chiama Una lettura fra le nuvole, che Passaggi ha, grazie ad uno sponsor che è l'Arenko, ha potuto costruire insieme la lettura del Corriere della Sera, l'inserto culturale del Corriere della Sera. Abbiamo fatto un concorso per illustratori, per fumettisti e ne premiamo uno, dandogli la possibilità sia di essere pubblicato sulla lettura che un riconoscimento anche economico. La seconda edizione premia un autore di Pesaro, quindi un nostro conterraneo, e verrà premiato da Rita Petruccioli, che è la madrina della giuria, la presidentessa della giuria di questo premio di quest'anno alle 23. A seguito della premiazione ci sarà anche Rita Petruccioli insieme a Lorenzo Ghetti che presenteranno la loro ultima fatica editoriale. Questo è tutto il programma, è molto ricco quest'anno, anche se un po' concentrato nei giorni, però è abbastanza interessante, io credo, per chi ami il fumetto. Anche molto soddisfacente il fatto di avere degli artisti locali, no? Perché è un pregio, questo è un valore aggiunto, visto che insomma sono stati rincorsi a lungo oltre insomma ai nomi che hai citato. Quest'anno abbiamo due autori locali, ci fa molto piacere, e un autore internazionale, quindi anche la parte delle graphic novel incomincia, diciamo così, a tessere delle trame sia locali che internazionali. E poi insomma la presenza femminile, la nota rosa, pone il suo accento ecco in questo spazio. Spazio che tra l'altro non è dedicato e riservato soltanto ai giovani come inizialmente si poteva pensare, ma insomma apre le porte a tutti quanti e cattura l'interesse di molti. Certo, poi in questa nuova location che è altrettanto affascinante come quella del Pincio, forse artisticamente ha un impatto ancora maggiore, secondo me portare il fumetto vuol dire portare qualcosa di bello all'interno di un contenitore altrettanto bello e significativo. Le graphic novel, i fumetti sono rivolti a tutto un pubblico molto ampio. Quelle che noi presentiamo non sono per i bambini, diciamo così, abbiamo scelto un fumetto più per giovani adulti, però noi vediamo, abbiamo visto negli anni che è frequentata questa rassegna da tutte le età. Bene, quindi anche lo scorso anno possiamo fare questo piccolo bilancio, ha registrato nutrite presenze. Sì, sì, tantissime presenze, poi ogni tanto inseriamo un autore anche per bambini, è venuto Sio qualche edizione fa e c'erano quasi 500 persone, per cui il fumetto può spaziare veramente su tutte le età. Bene, tra l'altro anche quest'anno Passaggi prevede dei laboratori degli spazi dedicati ai più piccoli. Sì, esatto, alla Mediateca Montanari ci saranno appunto i laboratori e come novità saranno i laboratori anche a bagni torrette, quindi nello stabilimento barneare dove l'Università di Camerino farà appunto dei laboratori veramente interessanti che tireranno un sacco di attenzione da parte dei più piccoli. Sì, comunque questa attenzione ai laboratori dedicati ai bambini è una nota per passaggi molto importante. Diamo il benvenuto allora anche a Davide Cattarossi, buonasera ben trovato, perché con te ritorniamo nel salotto del Pincio. Sì, partirei dalla novità di questa edizione, in realtà è un ritorno a quello che avevamo pensato insieme a Ludovic e Giovanni nel 2019, poi per una serie di motivi, il Covid, ma anche per una sorta di scelte anche editoriali che ci hanno portato a dover spostare poi il palco del Pincio perché avevamo un'esigenza di platea più importante, però nell'idea iniziale ci avevamo immaginati proprio una sorta di salotto letterario dove poter far incontrare gli autori, mescolare un po' le arti, quindi una sorta di luogo dove raccontare storie e quest'anno torniamo, abbiamo rimesso la testa su questo progetto che in realtà appunto era del 2019 e abbiamo deciso di ricreare questa situazione e coprirà lo slot che va dalle 19, 19.30 alle 21, prima dell'inizio delle presentazioni un po' più istituzionali che ci saranno al Pincio e lì vedremo una sorta di alternarsi di tutti gli ospiti di Passaggi Festival. Sarà un programma un po' a sorpresa perché diciamo sarà proprio un salotto informale dove ci piacerebbe fare dialogare magari lo spazio della piazza con quello del Pincio, un premio con un giovane delle graphic novel, quindi creare questa commistione anche generazionale tra gli ospiti. Il tutto verrà condotto da un'amica del festival, la scrittrice giornalista, book influencer Giulia Ciarapica che terrà le fila di tutto questo salotto, declinando un po' gli interventi, le interviste attraverso un taglio appunto più giovane con quelli che sono i linguaggi che proviamo a raccontare al Pincio, quindi quelli dei social network, quelli della musica. Il tutto è stato possibile grazie soprattutto alla collaborazione di due partner che sono Rebel House che è questa impresa creativa ma anche uno spazio culturale che opera in un palazzo storico, Palazzo Baldini, a Pergola dove creano eventi durante tutto il periodo invernale e saranno partner di questo luogo fornendoci gli allestimenti che non sveleremo ma sarà proprio un salotto letterario che speriamo piaccia. E poi il secondo partner è l'Inoteca Biagioli perché ci sarà anche un punto di somministrazione per rendere più gradevole il salotto di passaggio. Avete curato tutto nel minimo dettaglio. Speriamo. Assolutamente sì. Come sempre. Allora noi siamo curiosi anche comunque di sapere qualche nome, insomma gli ospiti sono tanti ed estremamente interessanti. Sì. Allora iniziamo con il premio, il premio fuori passaggi che quest'anno viene assegnato a Malika Ian, quindi la cantante, cantautrice molto apprezzata che conosciamo tutti. Il premio verrà dato domenica 25 alle ore 22. Malika ha anche scritto questo nuovo libro uscito pochi giorni fa edito da Rizzoli e appunto sarà l'occasione per parlare di questo suo libro e le verrà poi assegnato il premio fuori passaggi. Iniziamo con il pincio, le presentazioni giovedì, giovedì 22 alle ore 21. Iniziamo con Paolo Borzacchiello e Paolo Stella, quindi uno scrittore di bestseller e un influencer che presenteranno questo libro che uscirà in anteprima a Fano, perché la data di uscita è il 27 giugno, quindi sarà proprio un'anteprima e ci sarà appunto la possibilità di acquistare il libro a Fano in anteprima, collezione attimi di altissimo splendore. Poi ci sarà sempre giovedì Elena Di Cioccio, l'ex Iena di Mediaset. Elena ci racconterà una malattia che l'ha colpita e racconterà appunto in questo suo libro autobiografico. Venerdì invece avremo Francesco Sole, appunto anche lui scrittore di bestseller, famosissimo sui social. Ci sarà poi Matteo Bibianchi, Matteo è un ritorno al festival perché lui ci ha aiutato, ha condotto nel 2019 la prima edizione di fuori passaggi con Daniela Pollu. Quindi abbiamo visto il suo libro che poi è veramente bello, è stato candidato tra i premi dello strega perché il suo libro è un'autobiografia sulla sua vita personale e a seguito di un forte lutto ci racconta come poi appunto la vita di chi resta. Quindi siamo molto contenti di questo ritorno di Matteo. L'evento sabato 24 invece apriamo con la grande dottoressa psicoterapeuta Stefania Andreoli che ritorna al festival dopo essere stata l'anno scorso in piazza e ritorna invece al Pincio. Questa volta il suo libro parla di perfetti o felici e quindi come diventare adulti e quindi è praticamente diciamo il target perfetto per fuori passaggi. Poi abbiamo la banda Bardot alle 22 quindi diciamo la musica ritorna il sabato e alle 23 avremo invece Natascia Stefanenko che ci racconterà appunto il ritorno nella città senza nome. È un libro dedicato alla sua città natale quindi è una sua autobiografia. Questo libro sembrava molto interessante, molto particolare perché racconta appunto questa città della Russia fantasma che non appariva nelle cartine geografiche dove lei è nata e quindi ci racconterà questa storia molto particolare. E poi chiudiamo domenica con Sabina Guzzanti, quindi la comica è stata Sabina Guzzanti che ci racconterà il suo ultimo libro, uscito anche questo un pochi giorni fa Anonymous, come i vecchi rivoluzionari contro i giovani robot, quindi si mette a confronto diciamo le due generazioni e è appunto il premio a Malika domenica alle 22. Bene e fuori passaggi poi si trasferisce anche al mare. Sì esatto, abbiamo iniziato dallo scorso anno questa collaborazione con Bagnelsa, forse sei ore, è una realtà davvero davvero interessante. Abbiamo iniziato un po' per gioco lo scorso anno, nel senso Bagnelsa aveva già questa musica, libri, quindi abbiamo iniziato e abbiamo detto proviamo, ed è stato un successo. Quindi quest'anno ritorniamo a Bagnelsa, siamo molto contenti e torniamo dal mercoledì 21 e ci sarà questo libro di Bruno Casini che racconterà Tondelli e la musica. Davide Morresi poi giovedì 22 che ci racconterà live, racconti di vita e di concerti, quindi una raccolta di appunto di racconti ispirati all'interno dei concerti e della vita reale, diciamo storie dentro le storie. Cristiana Levi venerdì 23 invece ci racconterà le donne straordinarie, quindi gli incontri con queste donne che lei ha fatto e racconterà appunto la loro vita. Flavia Novelli invece sabato 24 ci racconterà le storie d'amore tra i poeti con il suo libro Amori diversi e quindi saranno appunto delle chicche tra i poeti, tra queste storie d'amore. E poi domenica 25 Elena Ghiretti ci porterà questo libro della nuova casa editrice a cento di Alessandro Cattelan ed è praticamente, questo libro si chiama Ostaggio ed è una guida diciamo serissima per ospitare gli sconosciuti e alloggiare a casa loro, quindi è una sorta di racconti di quello che succede dentro queste Airbnb come si diventa Ost, come quando si ricevono ospiti e quindi racconta queste storie un po' raccambolesche che succedono e appunto sono tutti temi, quelli che sono a Bagnese ma quelli che sono anche al Pincio che cerchiamo di essere sempre di attualità, cerchiamo di appunto andare a colpire anche, cioè quando scegliamo i libri scegliamo appunto che ci sia anche un filo conduttore con quello che accade intorno a noi e quindi cerchiamo di rispettare più o meno questa cosa e speriamo di riuscire. Fate uno stratosferico lavoro di squadra, questo insomma va detto. Davide vuoi aggiungere altro? Ci vediamo al festival. Assolutamente sì, vogliamo ricordare ai nostri telespettatori dove e come possono reperire il programma? Sì certo, allora sul nostro sito www.passaggifestival.it sarà già disponibile tutto il programma e poi ci saranno nei prossimi giorni, probabilmente la prima settimana di giugno, anche le brochure cartacee. Ricordiamo che l'evento ha l'ingresso gratuito, questo va detto. È ingresso gratuito, non c'è prenotazione tranne che per i laboratori e le visite guidate, sempre tutto sul nostro sito. Bene, diamo una piccola anticipazione di ciò di cui parleremo alla prossima puntata. Allora, la prossima puntata si parlerà di libri dedicati ai più piccoli, di laboratori e si parlerà poi di tutto il festival in generale, delle nuove rassegne che sono state introdotte, filosofia, economia, storia dell'arte, con il direttore Giovanni Belfiori. Bene, questi sono assaggi di passaggi. Io ringrazio i nostri ospiti che sono intervenuti, ringrazio il pubblico a casa e Riccardo Sora in regia e vi do appuntamento al prossimo mercoledì.